Volevo ringraziare gli amici del Comune di Maiori che mi hanno voluto per questa serata di fine luglio, di luglio, ma purtroppo come vedete sono immobilizzato a letto e purtroppo ho troppo male alla gamba, si è riacutizzato il dolore, l'infiammazione. Figuratevi se non avrei voluto fare la serata di Maiori, sono qui tra l'altro a Salerno, al nuovo hotel, ma non mi dimentico di quello che è stato il mio spettacolo di qualche anno fa con tutta quella gente festosa e la meraviglia di questa location, non sarei in grado di fare lo spettacolo. Spero però che per non deludere chi mi ha voluto si possa recuperare questa data nel corso del finale di stagione e sono a vostra disposizione, così sarò in forma per fare uno spettacolo come si deve e come il pubblico si aspetta da me. Perdonatemi, mi piange il cuore, ma non trovo altre parole, se no quella di ringraziarvi e di darvi un arrivederci e presto. Ciao.